E fratelli, andiamo alle domande che abbiamo ricevuto? E prima di tutto voglio leggervi, riguardo l'evangelizzazione, voglio leggervi un messaggio da parte di Toma, che ha avuto una idea originale. Dice, fratello Giuseppe, ho scoperto un metodo infallibile per evangelizzare. Ma se scrivessimo sulle maglie piccoli messaggi, tipo, ho la risposta a qualunque domanda, chiedi, sono qui apposta. Magari ti fermano e te ne approfitti. Buona l'idea? Ma guarda, mi sembra un'idea meravigliosa. Sto pensando di scriverci, ne so una in più del diavolo, ma una in meno di Gesù. Mettimi alla prova. Beh, i fratelli possono sbizzarrirsi nel usare la loro fantasia. Sì. Capisci? L'importante è che menzioni il nome di Gesù. Dio non è sufficiente. Il nome di Dio non basta. Geova non basta. Perché? Perché di Dio ce ne sono parecchi. C'è il Dio dei musulmani, il Dio degli hindù. Cioè, bisogna dire Gesù, Gesù Cristo. E anche Gesù, bisogna spiegare che non è Gesù islamico, che è un uomo come tutti gli altri. No. E Gesù Cristo, figlio di Dio. Capisci? Loro non credono in Cristo, credono in Gesù. Cioè, un uomo di carne. No, no, e quindi, guarda, sempre cercare di mettere qualcosa di fede. Vabbè, se non vuoi mettere tutti i costi di Gesù, metti qualcosa di... A volte, magari, Gesù, io vado piano a usarlo perché, sai, scopre troppo presto. Aspetto il secondo passo. Magari sulla maglietta puoi scrivere cose per semplicemente incuriosire. Per esempio, uno potrebbe essere, cose che mi vengono in mente così, regalo 100 euro. Ai, ai, ai. Grosso. E sotto, piccolino, scrivere a chi può rispondere a una domanda. E qual è la domanda? E per esempio... Quando sarà la tribolazione? Marco 8, cos'è, 37, 38, verso lì, dove dice Cosa può dare l'uomo in cambio della sua, della sua anima? Ai, ai, ai. Quella è difficile. Che risponde, è impossibile rispondere. Ai, ai, ai. Non può dare niente. È solo Gesù che ha dato... Solo Gesù poteva dare il suo sangue. Non può dare niente. Marco 8, 37. Marco 8, 37. Dice, allora, risponde... Regalo 100 euro, chi può rispondere a una piccola domanda? Quindi, grosso, regalo 100 euro. Piccolo. Ma chi può rispondere a una piccola domanda? E poi gli dici, qual è la domanda? E allora, prima, cioè, inoltre che si è fermato, usa la scusa per attaccare il bottone, vediamo se, vedi se riesce a guidare la salvezza. E la domanda è Marco 8, 37. Un'altra scritta può essere, io aggiungo le tue buone idee, Toma. Poi ognuno ci sceglie le citazioni che desidera. Un'altra potrebbe essere, offre amicizia gratis. Bello, bello. Ok? Un'altra può essere, ho scoperto che Gesù non è religione. Sì, sì, sì. Un'altra può essere, credo in Gesù ma non nella religione. Amen, amen. Eccetera, eccetera. Va bene? Quindi, fratelli, io so che ci sono fratelli che già hanno cominciato a stampare magliette con le scritte. Sì, è vero. Va bene? Non c'è niente di male a raccogliere, diciamo, offerte per questo. Non dovete regalarle. Ogni tanto potete regalarne una, ma dovete anche pagare l'affitto, pagare le spese. Quindi niente di male. Primo Corinzi 9 dice, se abbiamo seminato in voi cose spirituali, vi sembra granché se immiettiamo le vostre cose materiali. Quindi non vi vergognate. Solamente non fatelo diventare un business che i soldi diventano più importanti del Vangelo. Come quei predicatori che si sono addormentati sulla decima. D'accordo? Quindi, sempre volantino in tasca, di maniera che se uno non può comprare la maglietta, regalargli un volantino. Vangelo deve rimanere gratis. Va bene? Sì, sì. Amen. Ok. Quindi poi potete chiedere, quanto costa? Guarda, la maglietta costa tot, cioè il valore della maglietta commerciale, è quello che volete mettere. Se vuoi dare qualcosa in più per la missione, Dio ti benedica. Vedete che la gente è generosa. D'accordo? Sì. Bravo Toma. Ma fratele, avanti così perché ci servono, abbiamo bisogno di pastori. Va bene? Le pecore sono notoriamente tra gli animali più stupidi che esistono. Infatti noi pecore senza pastori siamo stupidi. Quindi pregate per essere pastori, non solo pecore scioccarelle che devono sempre attaccarsi al grembiore del pastore e andare in chiesa a prendere il ciucciotto tutta la domenica mattina. Va bene? Lascia perdere i ciucciotti delle chiese che ti tengono a livello eterno handicappato, eterno ritardato mentale e spirituale. L'unica cosa che hai imparato è essere dentro su una panchina a pregare come un pappagallo. Invece andare nelle strade come Gesù, amè? Next. Next è un fratello Alessandro sempre sull'evangelizzare. Cari fratelli, con un gruppo di amici vorremmo organizzare un'evangelizzazione da strada. In Italia adesso è estate, la gente di sera esce ed è attratta da ogni forma di passatempo. Abbiamo però bisogno di una scaletta che dia un filo logico e comprensibile. potreste organizzarla per noi e spedirla via e-mail? Il tempo è poco, l'estate se ne va in un baleno. Vorremmo fare questa cosa insieme a voi. Guarda, io ho pregato su questo e tutta onestà, volevo mandarvi dei suggerimenti forti questa settimana, però se andate a evangelizzare i pompieri e poi altre cosette non ci siamo riusciti, emergenze varie. Comunque adesso a più presto cercherò di dare i miei suggerimenti, poi i miei suggerimenti sono solo un trampolino, poi voi potete fare solo meglio di me. Io non voglio essere il tappo della bottiglia, il soffitto, il limite, per l'amore di Dio, voglio solo essere un trampolino che vi lancia a fare cose come me e meglio di me, d'accordo? Vi manderò suggerimenti, poi voi dovete usare, Dio vi ha dato, ha fornito a ciascuno di noi dei doni, dei talenti, della fantasia, della fede. E mi auguro che tutti i miei fratelli mi superano nella fede, mi superano nei miracoli, mi superano nelle guarigioni. Perché? Perché la gelosia è un demone che dobbiamo combattere tutti i giorni. Se il pastore è geloso che la sorella profetizza, stai zitta in chiesa sorella, taci, velo in testa e tu raccelo in bocca. No, no caro pastore, non ho capito niente. Paolo ha detto, mi pare, in 1 Corinthians 14, non proibite le lingue, dovete profetizzare, non disprezzate le profezie, perché una donna non può profetizzare, ma le donne possono profetizzare come noi, cari maschi, meglio di noi, perché le donne amano Gesù come noi, attualmente anche di più. Va bene? Va bene, quindi adesso pregherò e vi manderò dei suggerimenti. Nel frattempo non aspettate il signor fratello Giuseppe, è andato all'attacco, è andato nelle strade, volantini in tasca, cd in tasca, ha preparato il cd che dovete preparare? No. Preparalo, per quanto sia, preparalo, metto sulla radio un cd, perché il dvd c'è dentro un sacco di cose. Pensiamo di fare un cd con solo degli audio, che necessita meno giga, prima di scaricare. Invece del dvd di evangelizzare, di avere un cd? No, invece, tutte e due. Ah, tutte e due. Tutte e due. Ok, allora puoi avere un cd solo con audio o un dvd solo con video? Puoi avere il dvd che puoi scaricare adesso con 22 titoli, no? Sì. Uno. Due, puoi avere anche un cd solamente in audio e senza video, che si scarica più velocemente, o puoi averli tutti e due. Ok. Ok, e distribuiteli, è chiaro che c'è un costo, quindi non abbiate paura a raccogliere un'offerta in cambio. Quanto? Il cd vale tot, quello che vale, non so, non è il prezzo di uno di Pavarotti, non so, due, tre euro, cinque, due, tre, quattro. E poi se puoi fare un'offerta per la missione, grazie, Dio ti benedica. Quindi non avete paura di raccogliere un'offerta per i materiali che stampate, che distribuite. Tutte le chiese raccoglono soldi la domenica, anche le chiese buone, anche le chiese sane, anche i pastori, tutti. Va bene, quindi non vi vergognate, gloria a Signora. Ora per i fratelli, Alessandro. E quindi volantini, cd e dvd in tasca, questo è l'armamentario. Poi la persona vuole prendere un dvd, la persona non cd, la persona con una soldi, un volantino a quello poveraccio che è proprio disperato che non ha soldi, gli regalo in cd, però il volantino di solito è il classico per regalare. E dopo si può stampare delle magliette. E poi si può stampare delle magliette, procuratevi una macchina, è come una macchina a pressa che col calore è collegata a un computer, puoi scrivergli quello che ti pare, la macchina eccetera. Però questo richiede un'organizzazione, puoi andare ai mercati, ai mercati a distribuire queste cose. E poi cosa fare? Potete fare teatrini nelle strade, potete, che so io, io mi ricordo che per le strade in Italia c'erano questi artisti di strada, ognuno aveva una cosa diversa, quindi inventatevi qualcosa, vestitevi da pagliaccio, da Charlie Chaplin, da salti in banco, fate qualunque cosa, vestitevi da clown, come vi pare, vestitevi serio, come vi pare. C'è un fratello in Milano che va in piazza con la chitarra e canta canzoni cristiane, con i volantini, con il DVD anche, e quindi fate qualcosa. Ha scaricato il nostro DVD, l'ha stampato, a dire benedica. Quindi fate qualcosa per Gesù, i nostri materiali sulla radio sono tutti scaricabili per aiutare la vostra evangelizzazione. In Italia ci sono tante occasioni di evangelizzare, perché c'è sempre una notte bianca, notte blu, sagra, ci sono tante, tante. Sì, la sagra dello spaghetti, la sagra delle lasagne, i fratelli, le sorelle che vengono dall'est Europa, sono le mani scioccate, che in Italia gira e rigira, le sagre sono solo spaghetti, cannelloni, lasagne, lumache, il coniglio, cioè qui si tratta di se magna così o se magna così, com'è che se magna alla tua sagra? Però è simpatico, è simpatico. Alleluia, ci siamo. Quindi in attesa che io ho un po' di tempo per darvi dei suggerimenti, usate l'immaginazione, il modo più semplice, se non avete altre cose da fare, volantini in tasca, CD e fermare la gente nelle strade. Va bene? Ciao, Dio ti benedica! Io fermo così la gente a volte. Buonasera, ciao, Dio ti benedico, come stai? Uh, tutto bene? Qua, ti regalo questo. Quando dice regalo, la parola è magica, la gente lo prende. Io mi ricordo che davo questi volantini, sai, quando dà volantino, non gli corro lì tra la persona, cerca di mettere davanti che si deve fermare. E poi con il volantino toccagli la mano, istintivamente lo prende. Se afficca i trucchi del missionario. È vero, sì. Oltremente fate, quello che vi pare, potete portare una chitarra per strada, potete fare un teatrino, potete fare, vediamo se riusciamo a mandare, non so, vediamo se riusciamo a mandare delle idee, va bene? Sì. Aiutare questi fratelli che vogliono esplodere per Gesù. Nel frattempo, in attesa, andate in strada e guardate i binocoli puntati e guardate in faccia chi assomiglia a una pecora. Quindi andate, ciao, Dio ti benedica, guarda, c'è una cosa per te. E la prima cosa che dico sempre è che non sono religioso. Non siamo religiosi, non credo neanche che Gesù è religioso. E questo già è musica buona oggi, no? Andiamo? Amen, amen. Allora tu dici che questi fratelli che vogliono andare subito in strada da evangelizzare, possono farlo oggi. Non serve organizzare troppo? No. Andare. Serve solo che tu ci hai un viso sorridente. Se tu sorridi, il mondo sorride. Se tu sei serio, una faccia di mummia e la gente sarà seria. Una volta ero in Inglaterra e c'era un ragazzo universitario, intelligentissimo. Io lavoravo in questo ristorante e lui veniva lì, perché io ero lì, e lui veniva, chiacchierava, lui era un universitario questo qui, però viveva nei boschi, viveva perché era una specie di hippie, parla tanti anni fa. E lui questo sorrideva sempre. Era un personaggio intelligentissimo, viveva nei parchi. E allora gli ho notato che sorridi sempre. Eravamo una specie di amici, quasi amici eravamo. E gli dico, sì, come ma? E perché, dice, se tu sorridevi, una volta la polizia mi ferma. Sì, allora vogliono i miei documenti, vogliono sapere dove abiti, io abito al parco. E allora io sorrido. Quando il poliziotto vedi che sorride, lui si rilassa. Se tu sei teso, il poliziotto diventa teso. E lo comincia a fare interrogatori, ti porta alla stazione di polizia, ti fa perdere delle ore. Mi ha spiegato questo. Come quando a volte guida la macchina, poi si mi ferma. E allora cosa faccio? Comincio a sorridere. Sì, sì, sì. Ah, subito. Al più presto gli dico, Dio ti benedica, o come va, come non va. Cioè, è sempre cercare di diventare amici. Nell'evangelizzazione è questo. Filippesi 4.8 Tutte le cose belle, pure, gioiose, belle e buone, siano questo l'oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4.8 Le cose vere, le cose che vengono dal Signore. Va bene? Sì. Il mondo è pieno di tristezze, di depressioni. Gli ospedali sono pieni di cristiani che vanno in chiesa e gli ospedali sono pieni di questi cristiani depressi che sarebbero meno cipressi se loro andassero a evangelizzare invece di andare a riempire gli ospedali. Dottore, io ho un momento pensiero che vorrei ammazzare mia suocera, non so cosa fare. Ma vai a evangelizzarla la suocera, vai a evangelizzare per le strade. Riempiti di luce le tenebre, non devi cercare di spingere fuori le tenebre dalla tua testa. Fai entrare la luce. Le tenebre, questo è che vedi, tutti i dottori del mondo non hanno capito ancora Filippesi 4,8. Tutti i dottori psicologi, psichiatri, psicopatici, dottori psicopatici non hanno ancora capito, tutti messi insieme, non hanno capito che loro, cosa sono gli ospedali Angela? Cosa sono la psicologia? Cosa è la psichiatria? Senza studiarlo te lo dico io, guarda. E sono un branco di gente col diploma, cosa fanno questi qua? Cercano di spingere le tenebre fuori dalla testa delle persone. E non hanno ancora capito, perché dopo migliaia di anni le tenebre sono ancora lì. Perché le tenebre non si possono spingere fuori. Se mi è entrata in una stanza buia e dire adesso io spengo le tenebre fuori, spingo le tenebre fuori, cosa fai? Accendi la luce, no? tutti i dottori del mondo messi insieme non valgono una piccolissima scrittura Filippesi 4.8 pensare alle cose belle, positive, amorevoli. Gesù ha detto in Giovanni 15.11 vi do la mia gioia, vi do la mia gioia. Questa scrittura vi do la mia gioia è meglio di tutti i psicopatici, psicosomatici, psicopsychiatrici del mondo messi insieme con tutto il loro psicodiploma preso nelle psiconiversità che non servono a niente. Va bene, i psichiatri e i psicologi hanno fatto una statistica e la categoria, la classe di persone nel mondo che vive di meno, 56 anni alla media, perché si riempiono di tenebre dalla gente e muoiono, suicidi, muoiono di depressioni, la faccia finita, bang, e lì muore un altro. Anche perché si rendono conto che la psicologia non funziona. Ma non ha mai funzionato. Perché non puoi prendere le ossessioni di una persona se non dai qualcosa in cambio. Ma certamente. Riempire la mente e il cuore di quella persona con una cosa che funziona. Della tua vuotezza. Non puoi togliere le tenebre dalla testa di uno sostituendo con le tenebre della tua testa. No, con filosofia. Non serve a niente. I psicologi, i dottori, eccetera, cercano di far uscire le tenebre dalla gente. Non puoi far uscire le tenebre, non puoi far uscire la depressione. Non si può. Così come non puoi far uscire le tenebre da una stanza. Devi accendere la luce. Devi accendere Gesù nella testa delle persone. Devi accendere Gesù nel cuore delle persone. Un matrimonio che vuole divorziare il marito che è adulto, la moglie che è aprontizzata alla televisione, i figli ribelli. Basta. Accendere la luce. Non ti andai a dire al marito disgraziato smetti di commentare adulterio alla moglie tu zombie smetti di togliere da quella telenovela telediavolo che tutti i giorni guardi. Tu figlio ribelle smetti di essere ribelle di prendere marijuana eccetera. Non funziona. Bisogna accendere la luce. Dovete insegnargli Gesù. Dovete evangelizzare la moglie telea sue fatte. Dovete evangelizzare il marito che è adulto. Dovete evangelizzare i figli ribelli. Come evangelizzate i figli ribelli? Con il bastone, con la Bibbia di in testa con l'amore. Con l'amore con l'esempio. Devi ispirarli. Qui sto parlando se tu andai a evangelizzare nelle strade devi ispirare la gente. Il segreto è ispirare. C'è un messaggio non so se l'abbiamo ancora dato che il segreto è di ispirare. Il segreto è di il segreto il successo nell'evangelizzazione è un messaggio che ti ho dato Angela so se ce l'hai da qualche parte. Lo abbiamo qui alla fine del programma l'abbiamo messo così però è vero. Cosa dici? Quanto è lungo? È lunghissimo ma non ce lo facciamo a leggere adesso. No, non è lungo. Lo vuoi leggere? Sì. Dai, su, con la tua bella voce. Dio ti benedico. Fratelli, addrizzate le antenne per cortesia. Aprire le paraboliche. Questo messaggio che mi ha dato il Signore un paio di giorni fa non abbiamo ancora avuto tempo di darlo e parla proprio di questo come avere successo raccogliere frutti nell'evangelizzazione. Chi legge? Trovato. Io ed ora. Ma presto perché qui i fratelli non è che vuoi stare qui per l'eternità. Il buon risultato nell'evangelizzazione sta anche nel trasmettere l'entusiasmo. Ecco, andiamo, andiamo. Forza, forza. Gesù, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Galati 5, 22. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuettudine, autocontrollo. Fratelli, se vogliamo avere successo nella nostra evangelizzazione sia in generale che particolarmente nella nostra famiglia, dobbiamo essere ispiranti, innalzando gli spiriti, dando la gioia di Gesù, non solo rimproveri. Filippesi 3, 1. Del resto, fratelli miei, ralegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Sorridi e il mondo sorride con te. Sei depresso e il mondo non ha bisogno di te. Vuole vedere non Gesù morto, stramorto, il cosiddetto povero Cristo delle povere chiese, con le povere croci, con le povere cerimonie, con le povere pareti, con le povere prigioni religiose. Voglio vedere il Gesù vero, il Gesù vivo, quello del Vangelo, quello che è risorto, quello che sorride, quello che ama, quello che ha soluzioni, non quello che ti dice vai e siediti in una panchina domenica mattina come un salame e ripete a pappagallo, ripeti preghiera a pappagallo. Non è quello Gesù che vogliono, vogliono Gesù vero. Tutti nel mondo vengono rimproverati, depressi, condannati, accusati. Per questo che tante chiese non riescono a concludere niente con la loro evangelizzazione e solo allontanano i perduti dalla salvezza. Presentano un Cristo di rimproveri, di condanna, di fredda legge. Ma quello non è il vero Cristo. Il vero Gesù è venuto per amarci, sollevarci, ispirare il nostro cuore affinché, seguendolo, possiamo iniziare ora e immediatamente a vivere una parte del paradiso eterno che egli è venuto a mostrarci. Viviamo nel paradiso, fratelli, non abbiamo bisogno di aspettare che moriamo, che crepiamo, va bene, che ci buttano in una forza del cimitero per andare in paradiso. Possiamo vivere adesso nel paradiso, possiamo portare il paradiso, salute, possiamo portare il paradiso nelle nostre case adesso, il paradiso e le nostre famiglie adesso, possiamo portare il regno di Dio adesso, va bene, perché nel momento che tu ricevi Gesù, Galati 4,6 dice che lo Spirito di Cristo adesso è nel nostro cuore, nel momento che il Spirito di Cristo entra in noi, noi siamo un pezzo di paradiso, siamo una cellula di Gesù, la gente dice io non ho visto Gesù, ecco qua, guarda, qui c'è una parte di Gesù, sono io, vedi che bello sorriso, ascolta, Gesù ti vuole anche a parlare, cosa mi dice? Ti ama, è morto per te, è sufficiente? Non dobbiamo evangelizzare con una Bibbia di condanna in mano come fanno certe sette, ma una Bibbia di amore, gioia, libertà in Cristo, di felicità in Lui, offrendo una salvezza di contentezza e appagamento in Dio, come Gesù ha detto. Giovanni 10,10 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Va bene, Gesù non è un tirchio, Gesù non è come queste chiese che sembra il spacciatore di droga, una volta alla settimana una siringa di eroina, di eroina, euroina, una siringa di eroina chiesa, eroina religione, quanto dura? Ma, più o meno sei giorni dovresti farcela. Cos'è, il nuovo metadone? Peggio, il metareligione. ti guarda in chiesa queste panche che mi sembrano dalle sedie a rotelle tutti lì imbaccuccati a ascoltare uno che grida dal pulpito. Ma per favore, vogliamo uscire da queste cimiteri e andare a seguire Gesù? Vogliamo essere una chiesa vera, una chiesa facile, una chiesa viva, una chiesa morta, una chiesa di Philadelphia, una chiesa di Laodicea? Cosa vogliamo essere? Ci sono chiesi già sepolte ormai, tutte le domeniche sembra un funerale. Gesù è sempre morto in croce, il predicatore più morto di lui lì è il pulpito, quelli là, va bene? Sì, la cosa triste è che ci sono tante pecorelle lì, tantissime pecorelle che nessuno gli ha insegnate che quella non è vera di Gesù. Andiamo? Giovanni 15, 11, fino a 17. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Dice la mia gioia, attenzione, non dice religione morta. Questo è il mio comandamento, che vi ammiate gli uni gli altri come io ho amato a voi. Attenzione, non vi predichiate contro. 15, io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio. Amici, non membri seduti su panche morte appartenenti a una classe e una razza inferiore a un pastore o a un predicatore appartenente alla superiore casta dei diplomati in teologia, ma appartenente alla stessa famiglia di Dio resa unita dall'amore e sangue di Gesù. Questo vi comando, che vi ammiate gli uni gli altri. Alleluia! Abbiamo letto stamattina nel messaggio che Gesù ci ha chiamato ad essere pastori 1 Pietro 2,9 sacerdoti re per regnare. Se non siamo una chiesa di pastori siamo una delle tante chiese morte siamo un'altra setta e a me le sette non piacciono va bene? Ne sette ne otto non mi piacciono per niente. noi siamo parte noi riceviamo cattolici protestanti riceviamo tutti capisci? Perché deve essere una setta se io accetto tutti non mi setterizzo affatto loro si setterizzano sono loro che non mi ricevono magari mi ricevesse in ogni chiesa a predicare o almeno a stringere la mano almeno a che so a ballare insieme per Gesù sono loro che non mi ricevono sono loro le sette io loro li ricevo loro che non ricevono a me perché io ho strane dottrine non c'è una dottrine c'è uno strano libro dottrinale non ne ho c'è solo la Bibbia nient'altro e cosa cito tutti i giorni la Bibbia quindi gloria al Signore allora quando evangelizziamo dobbiamo essere entusiasmanti la gente deve essere la gioia del Signore in noi ebbene quindi cerchiamo di andare a evangelizzare e come ripeto portare i volantini in tasca e ci di un bel sorriso e quindi possiamo andare da tutte le parti e con questo possiamo concludere Alessandro no? sì quindi fratelli andate guarda anche se non hai tutte queste organizzazioni un bel sorriso un cuore pieno di amore cioè la gente quando ti guarda in faccia deve vedere un pezzo di cielo deve vedere degli occhi sinceri se la gente non vede Gesù nei tuoi occhi è inutile che gli sbatti la Bibbia in testa come fa un certo sette nelle strade evangelizzare no con la Bibbia non converti nessuno la gente conosce la Bibbia non la vuole la gente sa conosce gli edifici religiosi non ci vai i farisegono e c'era la Bibbia non convertivano nessuno perlomeno non le pecorelle va bene quindi la gente come si converte non dargli l'impressione che si sta convertendo si devono convertire da sole il tuo lavoro non è convertire il tuo lavoro è amare dare gioia dare amicizia sono loro che dicono tu vai ti innamori di una ragazza c'è chi moglie di una ragazza bellissima cosa fa quella appena ti vede gli dice mi sposi no dice niente si comporta in un modo ispirante dolce si versa in un certo modo parla in un certo modo dice quella ragazza le voglio sposare lei non ti ha mai chiesto che volesse sposata con te vi ricordate i mariti mariti sucche dure ascoltate bene quando la vostra moglie si è innamorata di voi perché perché gli avete battuto in testa la Bibbia perché l'avete detto vieni a mia chiesa domenica no si è innamorata di voi perché eravate il migliore uomo che lei conosceva e mi auguro che siete rimasti così mi auguro che adesso non siete lì con i piedi sulla sedia a bere e bere a guardare la televisione e fabbrica idioti sai che la televisione fabbrica gli idioti tu guarda la televisione diventi un idiota è una fabbrica la televisione speriamo che invece la moglie la trattata ancora come si merita come quella fidanzatina da corteggiare non come questa donna nella mia tasca adesso ormai non scappa più attenzione perché se perdete il suo amore è già scappata quello che dico ai mariti lo dico anche alle moglie next